Allora ragazzi stiamo andando da un mito svizzero che ogni anno fa una pallina, racconta tu Laura. Ogni anno praticamente fa un addobbo per l'albero di Natale differente. È comunque un'istituzione perché fa le decorazioni di Natale anche per i reali. Sì ma poi è un signore troppo carino. Ma si chiama Johan. Il Natale, è il Natale. Il Strauss, Johan. Altro che Babbo Natale, no. Andiamo a vedere, andiamo a vedere, dai dai dai. Ecco Johan Wanner, guardate, la parola più lunga del mondo. Weihnachtbaum, comunque ho fatto un spazio in sé. Sì, scenderemo. Una parola. 49 rettere. Il mito. Lui è il Natale. No, vabbè, ma guarda che trio. Guardale, che trio. Ma è un video. Ma è un video. È noi. Comunque adesso andiamo al mercatino di Natale. Ormonau. 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 Vin brule. Vin brule. Lalo. 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 Grazie a tutti